E' importante raccontare l'Italia protagonista del cambiamento non per un malinteso bonismo ma per dimostrare che abbiamo già tutti i numeri, le caratteristiche per cambiare, per portare questo paese nel futuro. E' importante da questo punto di vista fare squadre e quindi il dialogo tra associazioni, imprese, politiche diventa sicuramente un tema fondamentale e il ruolo di simbola in questo è sicuramente preziosissimo. Grazie